esistono giorni importanti per la vita di un'impresa e anche di un'impresa editoriale come la nostra oggi è uno di quelli questa mattina avrò il piacere e anche la fortuna di intervistare un personaggio pubblico straordinario come Emma Bonino una donna che si è battuta per i diritti nel nostro paese e per il grado di civiltà dello stesso e poi questa sera alle 19 la redazione sportiva e Cosmopolis nelle sue componenti anche tecniche garantiranno la diretta della partita del CUS la locale squadra di basket prosegue insomma la nostra idea di un'informazione che parta dai livelli locali e che spinga poi il suo raggio in relazione anche a dimensioni diverse più importanti un'informazione che faccia leva appunto su principi e presupposti identitari ma anche innovativi